che meraviglia ciao amici oggi sono venuta qui al nord a tenerife nei paesini tipici canari per fare un giro vedere un po com'è la vita non turistica è stupendo e tra l'altro volevo dirvi una cosa che oggi un giorno speciale per me anche perché mi ha fatto vedere youtube che esattamente 14 anni fa nel 2009 aprivo il mio canale di youtube quello che oggi ha più di 215 mila iscritti e quindi insomma una bella ricorrenza tra l'altro ho visto il primo video che ho pubblicato e sembra un po preistoria nel senso che vabbè io ero 14 anni più giovane quindi ero un po sta un po meglio avevo comunque già i capelli bianchi un po lunghetti date vedere e però parlavo proprio lenta lenta calma calma come si parlava un tempo ma gli argomenti sono giusti quindi insomma ci sono un po di cose interessanti dai andate a vedere questo video ditemi cosa ne pensate oggi 14 anni dopo e poi scrivetemi se avete così idee volete che vi parli di qualche argomento in particolare e soprattutto quali sono gli argomenti del mio canale che vi piacciono di più o se avete un video preferito ok ciao